Questa campagna di vettoriale è stata un po' così di chiasmante, è stata un'avventura nuova per me e per tutti i giovani democratici della provincia di Pari. Abbiamo tirato tantissimo in questi giorni, vittili a Natale, abbiamo incontrato tutti gli iscritti, abbiamo incontrato i ragazzi, anche persone meno giovani e tutti quanti ci siamo dimostrati disponibili a scedere in questo nuovo progetto. La sfida è ardua, è difficile, però abbiamo incontrato davvero tanto entusiasmo, non soltanto legato alla giovanità, ma anche alle idee che stiamo proponendo, quindi è stata una campagna elettorale diversa, diversa ma molto intensa, anche se breve. Senti, e il tipo di rapporto con gli altri candidati è stata una sfida difficile, ardua o se c'è stata comunque correttezza? Allora, con gli altri candidati si è andata tranquillamente, è stata una sfida, una campagna elettorale tranquilla, pulita, non c'è stato nessuno scontro, poi ovviamente noi pensiamo a nostra, abbiamo pensato a sponsorizzare al meglio questa candidatura, quindi ci siamo poco interessati degli altri, sinceramente, però è andato tutto in maniera corretta, in maniera tranquilla. Grazie.